Non si dà lo sfratto a nessuno, ma si va a togliere quella precarietà che la stessa giunta Cosolini aveva posto in essere. La mozione presentata in Consiglio Comunale della Lega Nord ha il solo fine di ridare legalità ad una situazione di abusivismo in una struttura di proprietà comunale. Lo sottolinea con determinazione il capogruppo Paolo Polidori, il quale ricorda come l'associazione IABASTA stia utilizzando i locali di via Ordandini 38, la cosiddetta Casa delle Culture, in forza di un atto che avrebbe dovuto avere carattere temporaneo. Non c'era più un contratto in essere di locazione con l'allora provincia. La giunta Cosolini ha scelto, stranamente prima delle elezioni, di legalizzare con questo atto di intesa, ma una situazione di assoluta precarietà e che quindi la precarietà presuppone il fatto che non si può andare avanti sine die. Questo anche nel rispetto di altre associazioni che potrebbero vantare il fatto che non è possibile andare a tempo indeterminato con una situazione precaria. L'immobile è di proprietà dell'ATER che ancora un anno fa aveva delegato il Comune ad individuare un'associazione di volontariato a cui assegnare gli spazi. Ma questa richiesta non l'aveva avuto seguito perché a giugno la giunta Cosolini aveva appunto deciso in favore dell'associazione IABASTA. Non c'è alcuna volontà di colpire specificamente un soggetto che va detto e molto lontano in termini ideologici dalla maggioranza che dal giugno 2016 governa il Comune, continua Polidori. Tant'è che non vi sarà alcuna preclusione a priori sul nuovo assegnatario degli spazi. Questa mozione va semplicemente a delegare la giunta, ad affidare la giunta, di mettere in piedi quelle procedure per la formalizzazione, poi con un bando o con affidamento diretto, a un'associazione meritevole. Quindi non diciamo non si può fare più con chi è lì dentro, ma diciamo sarà la giunta a determinati criteri di assegnazione a un'associazione meritevole di avere in concessione ad uso gratuito quella struttura.